Welcome to the Quantum Gravity Channel In questo video parliamo del puzzle rappresentato dal modello standard. Quali erano i pezzi a disposizione e come è stato possibile ricostruirlo e completarlo. Il modello standard descrive tre delle interazioni della natura. Le interazioni della natura sono, a quanto ne sappiamo oggi, quattro. Le interazioni elettromagnetiche, gravitazionali, deboli e forti. Le interazioni elettromagnetiche sono descritte prequantisticamente, cioè nell'ambito deterministico, che si dice classico, dalle equazioni di Maxwell che abbiamo spiegato nel primo video di questo ciclo. Le equazioni di Maxwell spiegano le interazioni tra le cariche in moto, che sono delle correnti, e quindi il campo elettrico e il campo magnetico, e come il campo elettrico e il campo magnetico, variando nel tempo, si trasformano l'uno nell'altro, propagando delle onde, che si chiamano la luce, e propagando quelle onde anche nel vuoto, senza nessun bisogno di un mezzo. Le equazioni di Maxwell, pertanto, incorporano già le trasformazioni di Lorenz e la relatività ristretta, che furono scoperte, infatti, analizzando le proprietà delle equazioni di Maxwell. Ma all'inizio del 1900 furono scoperti i quanti, la meccanica quantistica, e pertanto la teoria di Maxwell doveva essere interpretata o reinterpretata anche lei come tutto quanto all'interno della nuova visione quantistica del mondo, non più deterministica, ma invece una visione nella quale era stata iniettata la incertezza, l'indeterminazione. Sostanzialmente la luce poteva essere vista come fatta di quanti, di corpuscoli elementari indivisibili che si chiamano fotoni. Le equazioni di Maxwell e l'elettrodinamica sono qualcosa di straordinario perché sono relativamente semplici, ma allo stesso tempo hanno un contenuto altamente non banale e descrivono una grandissima varietà di fenomeni, tanto nell'ambito classico, cioè pre-quantistico, quanto poi nell'ambito quantistico. E quindi l'elettrodinamica classica e poi l'elettrodinamica quantistica può fungere da paradigma per poi affrontare tutte quante le altre teorie. E il primo pezzo del puzzle per costruire il modello standard fu proprio questo, l'elettrodinamica quantistica. Una parte del modello standard, infatti, è l'elettrodinamica quantistica. Il modello standard poi descrive anche altre due interazioni della natura, oltre alle interazioni elettromagnetiche, che sono quelle deboli e quelle forti, a cui verremo tra un attimo. Ma prima ci rinfreschiamo un po' la memoria su quella che è l'elettrodinamica, descrivendola adesso con il nuovo linguaggio introdotto dai quanti. Attraverso la teoria dei campi quantistici noi comprendiamo che è necessario descrivere i quanti in una maniera diagrammatica. Il fotone, che è il quanto che propaga le interazioni elettromagnetiche, lo si indica di solito con una linea ondulata. L'elettrone, una particella elementare carica, che quindi interagisce attraverso le interazioni elettromagnetiche, proprio perché è carica, lo si indica con una linea retta, continua, un segmento, con una freccia. Che cosa vogliono dire queste due linee? A livello diagrammatico queste due linee si chiamano propagatori. e indicano le particelle libere. Siccome anche la luce deve essere interpretata come fatta di corpuscoli elementari indivisibili, i fotoni quindi delle particelle elementari, possiamo immaginare, se sono libere, come degli oggetti che si muovono nello spazio con moto rettilineo uniforme, come diceva Galileo a suo tempo. Un corpo che non è soggetto a forze resta a riposo o si muove di moto rettilineo uniforme. La luce non può stare a riposo perché deve muoversi con velocità c, ma qualunque altra particella può stare a riposo oppure muoversi con moto rettilineo uniforme con una velocità costante, finché nessuno la disturba, cioè finché non entra in interazione con qualcos'altro. L'elettrodinamica quantistica consiste di questi due ingredienti più un solo altro ingrediente, che è l'interazione tra i due. È un'interazione nella quale un elettrone perde un fotone, perde un po' di energia, o riceve un fotone, riceve un po' di energia, interagisce in sostanza con il campo elettromagnetico e poi prosegue la sua strada, deviando un pochino, lo si indica in questo modo qua. Che cosa vogliono dire questi tre ingredienti? Non dovete pensare che in questo caso, per esempio, l'elettrone si stia muovendo esattamente in quel segmento, perché il principio di indeterminazione ci impedisce di determinare la posizione e la velocità della particella. Questa freccia sta ad indicare che cosa? L'impulso e quindi la velocità divisa la massa, assumendo che noi possiamo conoscere esattamente la velocità del nostro elettrone. Ma se conosciamo la velocità, il principio di indeterminazione ci dice che dobbiamo rinunciare completamente a conoscere qual è la sua posizione. E pertanto, quando vedete una freccia di questo tipo, non significa che l'elettrone sta lì, perché l'elettrone può essere ovunque, sparpagliato in una nuvola ovunque nello spazio. Vi sta soltanto dicendo che quella nuvola sparpagliata in qualche modo si sta muovendo con una certa velocità in quella direzione, proprio come un'onda, proprio come uno tsunami. Uno tsunami è un'onda gigantesca e quindi estesa per lo spazio, ma si sta propagando in una direzione ben precisa. Questi propagatori indicano quella direzione, non dicono nulla assolutamente sulla posizione di questi quanti, di queste particelle. Pertanto, quando noi al CERN facciamo degli esperimenti nei quali facciamo collidere delle particelle, non sappiamo esattamente dove stanno. Sappiamo soltanto che sono da qualche parte all'interno dell'acceleratore nel quale vengono fatte scontrare. Però cerchiamo di determinarne le loro velocità. Questa è l'interazione fondamentale e in questa sta tutta quanta l'elettrodinamica classica e poi anche quantistica. L'elettrodinamica classica e l'elettrodinamica quantistica con il linguaggio biagrammatico si possono vedere come costruite tramite diagrammi. Un quanto alla volta, un fotone, un elettrone, un'interazione alla volta e poi un'altra interazione. Per esempio, mettendo insieme questo vertice e questi propagatori, voi mi potete costruire questa interazione qui. L'ho ottenuta componendo due vertici e un propagatore del fotone che li collega. Che cosa rappresenta questa interazione? È un'interazione nella quale vedete un elettrone e un altro elettrone che si scambiano un fotone. Attraverso questo scambio, per esempio, avviene la loro interazione, quella interazione che ci dice che la forza, la legge di Coulomb, con la quale due cariche identiche, in questo caso due elettroni, si respingono, scende come il quadrato della distanza. Questo diagramma non sta altro che a rappresentare quella focola. E in realtà ne rappresenta anche altre, perché è più generale di quella, che sono tutte le altre formule contenute all'interno delle equazioni di Maxwell. Questo diagramma è un diagramma molto semplice e praticamente, se voi volete studiare l'interazione tra due elettroni, non ce ne sono altri a livello, si dice, classico. L'elettrodinamica classica si ferma qui. E cioè l'elettrodinamica classica, tutte le equazioni di Maxwell, con la loro incredibile semplicità, ma allo stesso tempo non banalità, sono ridotte a questi semplicissimi diagrammi. In questi diagrammi l'unica richiesta che io faccio per restare in quello che si chiama l'ambito classico, pre-quantistico, è di non chiudere mai un loop. Se uno vuole passare l'elettrodinamica quantistica, quello che fa è partire dagli stessi ingredienti, ma aggiungere altri diagrammi, tutti quelli nei quali può chiudere un loop. Per esempio, se questi due elettroni viaggiando di fotoni se ne scambiano due, ecco che io ho chiuso un loop, una curva chiusa. Questi diagrammi rappresentano le correzioni quantistiche alla teoria classica, cioè alle equazioni di Maxwell, e vanno calcolati. E ogni volta che c'è un loop, il calcolo non è banale. Tuttavia, l'elettrodinamica classica e quantistica è stato un ottimo banco di prova nel quale poter apprendere come puoi continuare con la costruzione del paso, perché l'elettrodinamica è un sistema veramente semplice, ma altamente ricco di informazioni, con il quale quindi si poterono confrontare tantissime predizioni con i risultati sperimentali. La prima parte del paso, quindi, per procedere e costruire il modello standard è una teoria già consolidata e molto ben rodata e capita che si chiama elettrodinamica. Classica, ma anche quantistica. Nello studio dei diagrammi ho già accennato al fatto che sorgono dei problemi perché spesso quando voi andate a calcolare un diagramma come quello lì o anche diagrammi ancora più semplici nei quali per esempio un fotone emette un elettrone e la sua antiparticella, un positrone, lo si vede così, e poi vi riassorbe e ritorna fotone. Quando fate il calcolo di questi diagrammi trovate infinito. non avete nessun problema ovviamente nella teoria classica in cui vi fermate a questi diagrammi qui che non contengono loop e si dicono diagrammi ad albero. Albero vuol dire appunto che non contiene nessun loop, nessuna curva chiusa. Ma quando voi chiudete un loop dovete fare dei calcoli che comportano sempre dei problemi come questi. è un problema del logos, del verbo, della nostra narrazione della natura. Proviamo a mettere insieme questi ingredienti che sono diagrammi e propagatori e a fare il calcolo che ne consegue, il risultato non ha senso. Qualche purista tipo uno stringhista avrebbe suggerito se fossero già esistiti gli stringhisti all'inizio del secolo scorso di lasciar perdere, arrendersi, alzare le mani, non funziona, fermatevi, non si deve andare avanti e avrebbe suggerito di cambiare tutto quanto, esplorare altre strade perché questa gli sarebbe apparsa troppo brutta. Avere a che fare con gli infiniti e poi magari cercare di nasconderli come gli stringhisti avrebbero detto molti anni dopo equivale a nascondere la spazzatura sotto il tappeto. ma i fisici all'inizio del secolo scorso non si persero d'animo e di fronte a questi infiniti trovarono la soluzione che è anche abbastanza semplice perché in molti casi la matematica, la stessa logica di Logos può tranquillamente fare spazio a questi infiniti e in alcuni casi in maniera estremamente semplice. spesso dovete incontrare dei problemi nei quali vi si richiede di sommare infiniti termini. È come il paradosso di Zenone la tartaruga. La tartaruga se vuole andare da A a B dice Zenone prima deve pur passare per il punto che si trova esattamente a metà chiamiamolo C ma poi dovrà anche passare necessariamente dopo aver fatto la prima metà del percorso per il punto D che si trova a metà tra C e B e poi necessariamente dovrà passare per il punto E che si trova a metà tra D e B. Se vuole insomma andare da A a B deve fare un'infinità di cose e questo gli causava un certo turbamento un paradosso un paradosso che però come vedete sta soltanto nel verbo nel Logos nella nostra narrazione di quello che fa questa povera tartaruga la tartaruga non ha nessun problema ad andare da A a B siamo noi che abbiamo dei problemi a descrivere quello che fa e se vogliamo insistendo con il discorso di Zenone possiamo anche dire che deve fare infinite cose all'interno della nostra narrazione possiamo trovarle infinite cose che lei riesce a fare ma poi in realtà di cose ne fa una sola fare spazio per esempio e trattare questo tipo di infiniti è molto semplice il perché lo possiamo spiegare con l'esempio della pizza voi avete una pizza molto grande e non sapete se ce la fate a mangiarla tutta cominciate quindi mangiandone metà metà vuol dire un mezzo esattamente come la tartaruga che nella prima parte del suo compito si sposta da A a C cioè compie metà del percorso dopo averne mangiato metà vi accorgete che non siete ancora sazi e potete mangiarne metà di quello che era stato cioè un quarto avete quindi mangiato tre quarti della pizza rimane un quarto non siete ancora sazi e allora mangiate metà di quello che è rimasto cioè metà di un quarto un ottavo e poi andate avanti allo stesso modo mangiate metà sempre di quello che resta un sedicesimo più un trentaduesimo eccetera se sommate tutte quante queste frazioni quello che vi resterà da mangiare sarà sempre più piccolo ma voi mangerete sempre la metà di quello che vi resta da mangiare beh se le sommate tutte all'infinito avrete mangiato tutta la pizza questo è un semplice esempio nel quale riuscite come nel paradosso di Zenone a sommare infinite quantità ma il risultato è molto semplice fa 1 e questo è un esempio nel quale si possono trattare gli infiniti in modo molto semplice quale altra definizione potremmo dare per questa somma che è poi la somma di tutte le potenze di 2 se non 1 cioè abbiamo che un mezzo più il quadrato di un mezzo che è un quarto più il cubo di un mezzo che è un ottavo più un mezzo alla quarta eccetera fa 1 bene quando si fanno i calcoli dei diagrammi di Feynman però tipo questo ogni volta che c'è un loop non si trova una somma così semplice da trattare ma si trova una somma del tipo 1 più 1 più 1 più 1 più 1 questo davvero non ha senso e non è come mangiare metà pizza poi un quarto un ottavo è come mangiare una pizza un'altra pizza poi un'altra pizza poi un'altra pizza evidentemente scoppiate perché questa somma si dice non converge e allora avete quella che si chiama una divergenza questa cosa qui è uguale all'infinito di nuovo il purista del logos il teorico delle stringhe verrebbe a dirti arrenditi non ha senso è brutto la persona che invece ha un po' di sale in zucca vi verrebbe a dire sì forse forse c'è un problema però è un problema che appare nel calcolo di un diagramma non è che dobbiamo confrontare un diagramma con la natura la predizione fisica non è fatta solo da quel diagramma è fatta da tanti altri mettiamoli tutti insieme arriviamo a quella predizione fisica che poi dobbiamo confrontare con la natura e poi vedremo se il problema sopravvive ancora o no vedete il purista quello che vi dice di arrendervi subito vi inganna perché crede o pretende che il logos la parola debba avere senso come questa somma infinita di uni in tutti i passaggi intermedi mentre la meccanica quantistica ci dice che in tutti i passaggi intermedi noi dobbiamo introdurre e parlare di quantità non fisiche virtuali per esempio che non sono per definizione mai rivelabili sperimentalmente e quindi che cosa importa se nel costruire la teoria un passaggio intermedio non ha un senso compiuto l'unica cosa che importa è che abbia senso ciò che dobbiamo confrontare con la natura e allora quello che si fa è di troncare questa somma dopo un numero arbitrario di termini lavorare quindi con una quantità grande n che potrebbe essere un milione un miliardo un miliardo di miliardi di un miliardo di miliardi di miliardi un numero arbitrariamente grande portarselo dietro in tutti i diagrammi calcolare poi la predizione fisica che sarà una somma una combinazione di quei diagrammi e magari sperare che nella predizione fisica un contributo cancella quell'altro e ciò avviene una semplificazione tra questi artifici del nostro logos del nostro racconto della nostra matematica che possono anche disturbare il turista nei passaggi intermedi ma che miracolosamente spariscono nei risultati che dobbiamo confrontare con la natura e questo è esattamente quello che succede nell'elettrodinamica tutti questi problemi si sono visti si sono risolti in maniera spettacolare e la loro soluzione è stata brillantemente confermata nei primi decenni del secolo scorso questo per dirvi che l'elettrodinamica è stato un banco di prova una parte molto molto grande di un puzzle che era già finita quasi perfetta nella sua formulazione ben capita ma non era tutto il puzzle però era un punto di partenza straordinariamente sviluppato fino fino anche ad aver capito come risolvere tutti quanti questi problemi per andare a confrontare le predizioni con i dati sperimentali e trovarle spesso coincidere con una precisione straordinaria come nel caso del g-2 del muone e anche dell'elettrone le predizioni finali quindi questi problemi qui non le contengono più questa rimozione delle divergenze si chiama rinormalizzazione e consiste sostanzialmente nel far vedere che si rimuovono da sole una volta che si pretenda soltanto che abbiano senso le quantità fisiche e non che abbiano senso i passaggi intermedi del nostro logos che abbiano senso le quantità fisiche nelle quali appunto io queste somme le posso spingere davvero come bisogna fare all'infinito mentre nei passaggi intermedi le tronco però dimostro che nelle predizioni fisiche la troncazione non ha nessuna influenza e quindi la posso rimuovere ma solo nelle predizioni fisiche e non nei passaggi intermedi quindi il primo pezzo del puzzle è l'elettrodinamica quantistica che si indica con Q e T di nuovo Maxwell se volete ma versione quantistica vi ricordate che il muone è una particella che vi ho detto che decade dopo un po' in elettrone e due neutrini si indica così un neutrino si associa all'elettrone stesso e un neutrino si associa al muone perché dove c'è l'uno c'è l'altro Fermi costruì con questo vertice questo è un vertice esattamente come lo sono i vertici dell'elettrodinamica ma non è contenuto nell'elettrodinamica la prima teoria delle interazioni deboli perché perché questo processo era noto sperimentalmente questo è il secondo pezzo del puzzle questo processo è un processo che si osserva facilmente e quindi Fermi disse ci deve essere un'altra forza nella natura un'altra interazione un altro vertice siccome succede che un muone possa andare in un elettrone e due neutrini introduciamolo e andiamo avanti questa si chiama interazione a quattro fermioni perché mu e e i neutrini sono tutti fermioni non è possibile spiegare il decadimento del muone con l'elettrodinamica deve essere necessariamente un'altra forza perché con l'elettrodinamica tutto quello che avete è questo e qui la particella che entra e la particella che esce sono la stessa non potete cambiare la natura di una particella un muone rimarrà sempre un muone per l'elettrodinamica un elettrone rimarrà sempre un elettrone un neutrino un neutrino l'elettrodinamica insomma non poteva spiegare quest'altro fenomeno e tutti gli altri fenomeni che si cominciavano ad osservare Fermi quindi introdusse questa interazione e con questa potete fare della nuova diagrammatica il diagramma più semplice è esattamente questo finisce lì e con questo spiegate il decadimento del muone quindi non state spiegando in realtà il decadimento del muone è il decadimento del muone che vi ha detto che ha detto a Fermi c'è questo vertice questo è un pezzo del puzzle che quindi si ricava dall'osservazione della natura come tutta quanta l'elettrodinamica quantistica che si era riusciti a fare funzionare così brillantemente che tornava con la natura ecco c'è un problema però che quando si usa questo vertice a quattro fermioni per fare dei diagrammi uno che si può fare per esempio è questo a lutto vedete qui succede qualcosa di serio perché quella rimozione degli infiniti che era possibile nella elettrodinamica qui non è tanto semplice e non riesce a funzionare come nell'elettrodinamica quindi i pezzi del puzzle erano queste una teoria completa strabiliante nella sua semplicità e nel suo contenuto altamente non banale nella quale si erano potuti anche risolvere problemi molto seri come quelli di queste divergenze e vederli sparire di fronte ai nostri occhi al cospetto degli esperimenti dall'altra una nuova informazione l'esistenza di un'altra forza richiedeva di introdurre dei vertici come questo introdotto da fermi che avessero quattro gambe esterne fermioniche un tipo mai visto prima perché nell'elettrodinamica c'era solo questo che ha soltanto due gambe fermioniche e il resto è un fotone che è una gamba bosonica l'interazione di fermi insomma l'altro pezzo del puzzle non si incastrava perfettamente con il puzzle già completo che era quello dell'elettrodinamica quantistica bisognava cambiarla torniamo a questo diagramma semplice che abbiamo costruito prima nell'elettrodinamica quantistica anzi classica perché non ha loop vedete che in questo diagramma abbiamo quattro gambe fermioniche esattamente come nel vertice di fermi abbiamo quattro gambe fermioniche ma questo non è un vertice è un diagramma perché in mezzo si sta propagando qualcosa che è il fotone però questo diagramma ci suggerisce che se noi prendiamo l'interazione di fermi e la slarghiamo introducendo un bosone intermedio e questo è il motivo per cui si chiamano bosoni intermedi posso trasformare la interazione di fermi in una interazione che ha tutte quante le caratteristiche di quella dell'eltrodinamica devo però postulare che quella interazione che fermi descriveva come questo vertice qui fosse in realtà un diagramma non un vertice un diagramma risultante dallo scambio tra il muone e l'elettrone uno scambio di qualcosa di nuovo perché il muone non è più un muone ma si trasforma in un neutrino del muone l'elettrone non resta più elettrone ma si trasforma in un neutrino dell'elettrone ebbene uno scambio di un bosone intermedio se postulo una cosa del genere mi avvicino molto all'elettrodinamica come struttura della teoria e quindi questo è il motivo per cui si è postulata l'esistenza di alcuni bosoni intermedi e andando a confrontare queste ipotesi con i vari altri tasselli del puzzle che nel frattempo la natura forniva attraverso risultati sperimentali si capiva che c'era la necessità di introdurne tre di questi ma non bastava perché i problemi che questo trucco permetteva di risolvere erano quasi tutti i problemi che c'erano senza l'uso di quel trucco cioè nella teoria di fermi delle interazioni deboli ma non tutti per far funzionare veramente tutto c'era bisogno di un'altra idea e qual è la grossa differenza tra l'elettrodinamica e questa cosa qui che si chiameranno interazioni deboli che i bosoni intermedi dell'elettrodinamica sono il fotone che ha massa zero questi dovevano essere ben pesanti invece avere una bella massa perché perché dovevano ridursi al vertice di fermi che non può venire dall'elettrodinamica l'elettrodinamica quindi serviva è servita come un paradigma fino a un certo punto ma a un certo punto bisognava inventare qualcosa di nuovo perché non si riuscivano a risolvere tutti quanti i problemi ne rimanevano ancora alcuni e questi problemi sono appunto il controllo di quelle divergenze di quelle cose che abbiamo visto prima senza introdurre mai le probabilità negative le particelle fantasma perché il problema di questa diagrammatica è sempre lo stesso si rischia di perdere il controllo di quelle divergenze e per recuperare quel controllo si rischia di introdurre delle particelle fantasma e bisogna quindi cercare di muoversi sul ciglio della montagna senza cadere per risolvere questi due problemi contemporaneamente che cosa mancava per fare la quadratura del cerchio e quindi completare il puzzle mancava l'ultimo tassello e l'ultimo tassello era il seguente per riuscire a slargare il vertice di Fermi e a risolvere tutti i problemi che c'erano nell'interazione di Fermi non erano sufficienti i bosoni intermedi c'era bisogno anche per dare loro una massa di una particella nuova il bosone di Higgs insomma il puzzle era fatto di questo una teoria strabiliante come l'elettrodinamica quantistica che indicava la via e una nuova interazione perché esisteva sicuramente almeno una forza nuova e poi la stessa cosa verrà replicata per le interazioni forti ma non era possibile andare avanti con un vertice alla Fermi bisognava modificarlo in maniera che fosse il più simile possibile all'elettrodinamica quantistica non era possibile renderlo identico a quello o troppo simile dopo un po' però si è arrivati alla conclusione che si potevano risolvere questi problemi a patto di pensare che ci fosse anche un bosone di Higgs quando all'inizio degli anni 80 furono scoperti i bosoni intermedi fu una grossa conferma che questa era la strada giusta ovviamente a priori la natura avrebbe potuto tranquillamente andare avanti con l'interazione di Fermi e tutti i suoi problemi e quei problemi avremmo dovuto cercare di risolverceli noi in un'altra maniera però l'elettrodinamica quantistica indicava in maniera molto chiara una via da percorrere e andava sicuramente percorsa quando all'inizio degli anni 80 quindi furono scoperti davvero questi bosoni intermedi fu una grossa spettacolare conferma di quella strada ma quando nel 2012 fu scoperto i bosoni di Higgs nessuno si sorprese non fu neanche una notizia per noi perché sapevamo già che doveva esistere sapevamo già che per reggere il tutto quei bosoni intermedi già trovati molti anni prima non bastavano e così come per reggere il tutto avevamo postulato quelli dovevamo per forza pensare che ci fosse anche il bosone di Higgs prima della scoperta del bosone di Higgs quello che ci dicevamo noi teorici era l'unica notizia che potrebbe arrivare dal CERN è se dimostrano che non esiste il bosone di Higgs perché allora in quel caso ci dicono qualcosa che non sappiamo in quel caso sì che ci dobbiamo mettere al lavoro per capire dove abbiamo sbagliato ma quando un modello come il modello standard raccoglie successi a ripetizione beh si rischia di non avere più nulla da dire perché includendo la scoperta del bosone di Higgs le conferme a questa procedura quindi a questo completamento del puzzle in questo modo sono state così tante e spettacolari e le discrepanze che sopravvivono sono così poche e marginali che veramente noi non sappiamo più che cosa fare perché perché qualunque cosa ci sia oltre è qualcosa di cui noi non abbiamo nessun indizio nessun pezzo del puzzle perché non c'è nessuna contraddizione vi ricordate la contraddizione tra le trasformazioni di Lorenz e le trasformazioni di Galileo e adesso abbiamo avuto questa contraddizione tra le interazioni di Fermi e le interazioni dell'elettrodinamica ma adesso di contraddizioni non ne abbiamo più e questo vuol dire che il logo si rinsecca perché a questo punto non possiamo inventarci un puzzle ex novo noi non possiamo con l'attività cerebrale il cogito dedurre ciò che sarà senza avere nessuna indicazione noi possiamo speculare per esempio che le tre interazioni della natura deboli forti ed elettromagnetiche siano unificate è un'idea che può piacere a qualcuno ma non c'è nessuna indicazione che sia così e decenni e decenni di sforzi in quella direzione non hanno mai prodotto risultati perché? perché non c'era nessuna indicazione nessuna contraddizione da risolvere queste interazioni se non sono unificate non sono in contraddizione il fatto di averle non unificate non contraddice nulla del nostro pochissimo potente logos e se non riescono a contraddire nemmeno il nostro logos che è così poco potente figurarsi se la natura non può andare avanti anche con delle interazioni che non sono unificate quindi con la scoperta nel 2012 del bosone di Higgs si chiude la storia di un lungo puzzle durato più di un secolo il modello standard delle particelle elementari che spiega tre interazioni quelle elettromagnetiche quelle deboli e anche quelle forti che sono spiegate nello stesso identico format diciamo così e senza nemmeno avere la noia del bosone di Higgs che deve dare massa a questi bosoni intermedi perché nel caso delle interazioni forti possono essere e sono tranquillamente a massa zero quindi abbiamo sempre lo schema Maxwell vedete lo schema Maxwell per le interazioni di Maxwell ovviamente lo schema Maxwell riveduto e corretto è il cuore comunque anche delle interazioni deboli e anche delle interazioni forti e anche Einstein quando ha costruito la relatività generale si è ispirato allo schema Maxwell per le interazioni gravitazionali rimaneva fuori la gravità se vogliamo considerare il puzzle più grande che comprenda tutte e quattro le interazioni della natura elettromagnetiche deboli e forti già spiegate in maniera spettacolare nel modello standard ma anche quelle gravitazionali ci troviamo di fronte ad altri problemi per certi versi simili ma dalle soluzioni che non sono simili e non possono essere replicate le soluzioni già trovate per esempio nel caso della gravità voi vi troverete un propagatore esattamente dello stesso tipo e la linea ondulata stavolta sarà il gravitone ma vi troverete anche dei vertici in cui il gravitone interagisce con se stesso tra parentesi questi vertici esistono anche per le interazioni deboli e forti e finché si fermano a vertici con tre e quattro gambe si riesce a fare tutto come per l'elettrodinamica e le interazioni deboli e forti si fermano lì e quindi si sono riuscite a capire all'interno di uno schema che ha la base lo stesso dell'elettrodinamica ma poi richiede ovviamente qualche inventiva in più senza però che questo renda la sfida impossibile e purtroppo però nel caso della gravità voi di questi vertici ne avrete infiniti e allora si ritorna al problema dell'interazione di Fermi lo stesso identico problema che impedisce di avere un controllo su quegli infiniti quelle divergenze in maniera soddisfacente e quindi si ritorna ancora alla base o si avrà una teoria in cui quelle divergenze sono fuori controllo oppure si devono introdurre delle probabilità negative delle particelle fantasma se nel modello standard si era riusciti a trovare la terza via una terza via del genere non era percorribile per la gravità nel prossimo video vedremo quindi l'ultimo paso la gravità quantistica grazie grazie della partecipazione e mi raccomando di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di abilitare le notifiche in modo da restare costantemente aggiornati sui nuovi video e le nuove iniziative vi raccomando anche due libri dalla fisica alla vita viaggio nell'infinitamente piccolo ritorno e l'involuzione del pensiero scientifico come la civiltà perde conoscenza che sono molto utili per seguire le problematiche che affrontiamo in questo canale se potete spargete la voce sui social e se avete delle domande o dei suggerimenti lasciateli nei commenti alla prossima grazie a tutti